Grazie. Il motivo tecnico che può essere quello più noioso, cercherò di liquidarlo in pochi secondi, è quello legato alla circostanza che il blocco del procedimento amministrativo è avvenuto perché dopo un parere favorevole rilasciato dal Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, vi è stato invece un diniego da parte della sovrintendenza che ha dato il parere negativo con riferimento al tema del vincolo paesaggistico, quindi noi come associazione di consumatori abbiamo chiesto che su questo specifico elemento si pronunciasse invece il Comitato nazionale, che è il massimo organo scientifico esistente in Italia, costituito presso il Ministero, per fare una verifica più approfondita, più corretta, più corposa di quella paginetta e mezzo con cui la sovrintendenza pugliese ha liquidato la vicenda. Questo è l'aspetto tecnico del ricorso, abbiamo chiesto quindi questo tipo di rivisitazione ad un organo oggettivamente riconosciuto come il migliore in questo campo, invece da un punto di vista politico il tema è diverso, il tema deve purtroppo partire da dati che non diamo noi, li tiriamo dal, sono quelli che ci dà il corpo forestale dello Stato, che è un organo quindi assolutamente terzo, indipendente, e dice che purtroppo la Puglia, nonostante l'attenzione forte che ha questo governo regionale per il tema dei rifiuti, però purtroppo si trova al poco invidiabile primato di discariche abusive, noi siamo primi come numero di discariche abusive, addirittura sono, adesso è un numero preciso, ma si parla sicuramente di più di 560 discariche. E poi sempre questo stesso rapporto ci dice che ben 4 milioni di chilometri quadrati del nostro territorio sono ripieni di queste, diciamo sempre di discariche abusive. A fronte di questo poi non parliamo del rapporto, perché là sarebbe del rapporto di lega ambiente sull'ecomafia, perché per questa gentale ovviamente il discorso della situazione grave in cui ci troviamo dei rifiuti è assolutamente, diventa addirittura un business. Quindi il dato politico che sorregge il ricorso è quello di dire noi abbiamo un problema oggettivo in materia di rifiuti in Puglia, paradossalmente condividiamo il 99, cioè quasi tutte le battaglie del comitato ambientalistico con riferimento alla differenziata, con riferimento al rifiuti zero, cioè è evidente che ci trovano. Però purtroppo siccome i dati sono questi, dobbiamo fare i conti con questa situazione reale, si tratta di individuare delle risposte immediate che ci possano consentire intanto di evitare diciamo situazioni tipo quella della campagna. Allora intanto chiediamo invece al sindaco di Modugno, voi vi siete costituiti contro il ricorso presentato da consumatori come comune di Modugno? Sì, ci siamo costituiti non per un fatto ideologico ma perché riteniamo che innanzitutto gli atti amministrativi devono essere a posto, riteniamo che la nota della sorpreintendenza abbia un fondamento e quindi è uno degli atti che hanno costituito e hanno portato al parere negativo del settore ecologia della regione rispetto al via. È una vicenda che parte da lontano 2002, che ha visto una serie di atti rilasciati, una serie di ricorsi, una serie di vicissitudini, di polemiche, di... insomma un argomento importante che ha visto la città sollevarsi. Sollevarsi io ritengo giustamente e quindi c'è stata proprio un'unione in questi anni tra quelle che sono le associazioni ambientaliste e quella che è stata l'attività del comune ma soprattutto per l'approccio politico che noi riteniamo debba darsi alle vicende dei rifiuti. Noi riteniamo che parlare di incenerimento nel terzo millennio sia assolutamente una cosa superata, riteniamo che debba parlarsi sempre più di raccolta differenziata, riteniamo che vada sensibilizzato e questa è un'opera del comune, il comune e tutti gli attrienti, è simibilizzata la cittadinanza alla quale vanno dati anche gli strumenti adatti per educare a questa nuova cultura. Il prevedimento è chiaramente l'aumento della raccolta differenziata, su questo però ci arriviamo tra pochissimo perché tra l'altro ci sono le legislazioni normative, le legislazioni nazionali e comunitarie che prevedono tra l'altro l'inserimento dell'inceneritore nel ciclo di gestione dei rifiuti in un momento ben preciso, vedremo poi, significa anche aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Ne parliamo tra pochissimo perché visto che il sindaco parlava di una grande coesione tra ambientalisti e comune in questa battaglia contro la realizzazione dell'inceneritore possiamo dire che non hanno fatto invece quadrato in questa costituzione in giudizio contro il ricorso di Conf.Consumatori Puglia, questo l'avete un po' lamentato voi come ambientalisti, Presidente Dio Ferruvi? L'abbiamo lamentato pure perché abbiamo appreso sull'albo pretorio online che il comune si costituiva nel giudizio promosso dalla Conf.Consumatori Nazionale e Federazione Puglia per quanto riguarda l'impugnazione del vincolo paesaggistico al quale peraltro un vincolo sul quale senza pecare di presunzione avevamo noi chiesto proprio espressamente che la sovrintendenza eseguisse un sopralluogo sull'intera zona visto e considerato che su quella zona insiste un numero rilevantissimo di siti archeologici di notevole interesse, da tal punto che lo stesso magistrato che ha proceduto alle indagini su quell'impianto ha dichiarato quella zona di notevole bellezza, quindi i periti proprio che ha nominato il giudice Francesco Bretone che ha condotto le indagini hanno avuto modo di accertare che effettivamente è una zona di notevole bellezza e sulla quale noi chiediamo espressamente al comune e all'ente regionale che si possa trasformare in un parco archeologico. Ora dicevo prima, non siamo stati coinvolti in quanto proprio essendo noi detentori di tutto il coinvolgimento da parte di entrambe le sovrintendenze perché in Puglia c'è la sovrintendenza dei beni paesaggistici ed architettonici e c'è anche la sovrintendenza dei beni archeologici quella per il quale la Conf. Consumatori ha detto che rilasciò a suo tempo il nulla osta io dico che quel nulla osta fu rilasciato e pur vero però fu rilasciato anche con una serie di prescrizioni pure perché la stessa sovrintendenza voleva anche eseguire dei sopralluoghi per verificare se all'interno del sito c'erano anche come è stato poi successivamente scoperto dei pozzi medievali eccetera eccetera Sempre però Avvocato Pinto, se sul dato politico insomma è opinabile, suscettibile di varie interpretazioni attestiamoci sul dato tecnico per così dire lei ha detto che nel vostro ricorso mettete in discussione la verifica che è stata fatta dalla sovrintendenza dei beni paesaggistici su questo vincolo che è stato effettuato all'interno Questa è una stretta connessione sul fatto che voi inizialmente avete proposto ricorso al Tar Lazio quando invece per competenza territoriale è stato trasferito al Tar di Vali No, questa è una questione diciamo puramente processuale in realtà era abbastanza opinabile perché abbiamo chiesto che l'organo che riesaminasse è un organo del Ministero quindi era abbastanza incerto come competenza territoriale ma è una questione abbastanza poco rilevante da un punto di vista non c'entra nulla col merito cioè è una vicenda, ripeto, sicuramente l'oggetto del ricorso è quello di chiedere un riesame sulla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico a un organo che è presso e costituito presso il Ministero non è di livello regionale quindi a quel punto si è pensato in andare al Tar Lazio ma non attiene al merito insomma Per quanto riguarda invece credo che sia costituita non solo la Conf Consumatori Puglia ma anche la Conf Consumatori a livello nazionale ecco come si giustifica l'intervento anche dell'Associazione dei Consumatori a livello nazionale su una questione che comunque inerisce la regione Puglia? Si giustifica perché il codice, perché il nostro ordinamento processuale prevede che la titolarità dell'azione collettiva è in capo alle associazioni che sono iscritte presso il Consulta Nazionale dei Consumatori Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che quindi rispettano tutta una serie di parametri, di standard, di requisiti a livello di bilanci, soprattutto di iscritti o di attività sostanziali svolte nell'ultimo treno e quindi è chiaro che da un punto di vista processuale chi ha la titolarità per fare questo tipo di cause previste dal codice del consumo sono soltanto le associazioni nazionali essenzialmente grazie a tutti Grazie a tutti.